È tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano. Sono queste le parole con le quali il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha introdotto lo scottante tema delle riforme. Crise economica e difficoltà gestionali sono gli argomenti principali che hanno spinto il presidente federale a trovare delle soluzioni migliori per il calcio. Il progetto, sviluppato su pianalità e che è saldamente nelle idee del presidente, prevede la creazione, a partire dalla prossima stagione sportiva, di una C-elite e di una D-elite. Un modo per aggredire le criticità economiche e facilitare il salto di categoria. Gravina, dopo anni di tentennamenti, fa sul serio ed ha annunciato l'intenzione di convocare un'assemblea straordinaria entro la fine del mese di novembre, proprio per aggiornare lo statuto della FIGC e velocizzare le modifiche. Secondo il numero uno del calcio italiano, la riforma non sarà incentrata sul format dei campionati o sul numero delle iscritte, ma impatterà sul divario della ripartizione delle risorse economiche. Di fatto, nelle idee di Gravina, la Serie A passerà da 20 a 18, così come la B, poi spiccherà la C-elite con 18-16 squadre. La B e la C-elite saranno unite in un'unica lega, al pari della Serie C e della D-elite, la prima a 36 squadre, la seconda con 54 rappresentanti. Sopravviverà una cosiddetta D-normale, con 112 compagini. La novità, come detto, scatterà dal campionato 2022-2023, ma i mugugni già fanno presagire che il passaggio certamente non sarà semplice né indolore. Un altro argomento scottante che Gravina ha toccato è stato quello del Green Pass e delle vaccinazioni per i calciatori. Il presidente sul tema è stato chiaro, ci sarà l'obbligatorietà del Green Pass e dunque vaccino, attestato di guarigione da Covid-19 o tampone entro le 48 ore, per i tesserati che disputano le competizioni professionistiche. Il Green Pass, ha dichiarato Gravina in conferenza stampa, deve considerare tutti, non solo i tifosi, anche i calciatori, i professionisti e i dilettanti. Con una chiosa che non lascia dubbi. La FIGC spiega, valuterà di concerto con il governo, se adottare dei provvedimenti di obbligatorietà di vaccino per i tesserati. Lo spettro del Covid ha terrorizzato il calcio e Gravina, lo ha fatto capire a chiare lettere, non ha intenzione di farsi nuovamente trovare impreparato.